Dopo due anni di lavoro, oggi è un giorno importante, il primo passo concreto che si va verso questa realizzazione, questo importante progetto che da decenni saremo aspettati. Dunque un bel giorno per tutta l'amministrazione, un ringraziamento agli uffici e sicuramente adesso ci vedrà impegnati nelle varie commissioni e consiglio comunale per poi partire con l'ITER e anche le conferenze di servizio. Noi auspichiamo che si possa iniziare nei lavori, si parla già verso il 2019. Da sindaco l'emozione nel vedere nascere un progetto del quale si parla da decenni a Sanremo. Sì, è una grandissima emozione come dicevo e siamo felici ma soprattutto è una struttura secondo noi importantissima per tutte le nostre associazioni sportive ma anche perché con questa struttura si può utilizzare anche per un turismo sportivo. Quante squadre, quante varie nazionalità sia estere, italiane, nazionali che vengono qui a Sanremo e cercano strutture di questo tipo anche per prepararsi ad importanti appuntamenti. E poi si possono fare eventi, possono fare tantissime cose all'interno di questa struttura, basta pensare che ospiterà, ci saranno più di mille posti a sedere e potrà essere utilizzata per tantissime cose. Grazie. 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 Grazie.